L'esperienza della pandemia ci ha imposto di ripensare alcune questioni fondamentali che potremmo elencare nelle tre domande kantiane. Che cosa possiamo conoscere, che cosa dobbiamo fare, che cosa possiamo sperare. Che cosa possiamo conoscere significa in fondo che cosa è il nostro controllo e che cosa non è il nostro controllo perché ciò che conosci lo controlli, lo domini, ciò che non conosci ti domina. E la pandemia ci ha dimostrato che non tutto è il nostro controllo, non tutto conosciamo. Che cosa dobbiamo fare? Ciò che dobbiamo fare è sicuramente di più di ciò che qualcuno può esigere da noi. Li abbiamo chiamati eroi, medici, infermieri, personale sanitario, hanno fatto più di quello che era esigibile da loro ma non più di quello che loro hanno sentito che era loro dovere fare. E questo ci interroga. Ciò che dobbiamo fare è più di ciò che qualcuno può esigere da noi. E ciò che possiamo sperare significa che non è che tutto andrà bene. Noi ce lo siamo ripetuti, tutto andrà bene, non tutto è andato bene. Possiamo sperare che tutto questo che abbiamo vissuto, che è stata un'esperienza estrema, che è tuttora un'esperienza estrema, abbia un senso. Non che non siamo vulnerabili, non che non ci accadrà nulla, ma che da tutto questo possa avvenire fuori qualche cosa di buono. E verrà fuori qualche cosa di buono se sapremo apprendere la lezione che questa pandemia ci dà, che è una lezione di responsabilità nei confronti dei più fragili, dei più vulnerabili. Grazie.